Ogni settimana proponiamo gratuitamente e senza nessun abbonamento i concetti chiave dei migliori libri di formazione e crescita personale. I libri che ti cambiano la vita in soli 15 minuti. Metti un bel mi piace sotto a questo video, iscriviti al nostro canale per restare aggiornato sulle nuove uscite e parla di noi ai tuoi amici e familiari, così che più persone possano raggiungere il successo. 21 lezioni per il ventunesimo secolo Bompiani, saggi Bompiani 2018 L'autore Yuval Noah Harari, classe 1976, è uno studioso di storia e saggista israeliano. Membro della giovane Accademia Israeliana delle Scienze, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è diventato famoso a livello internazionale per il bestseller Sapiens, A Brief History of Humankind, pubblicato nel 2014. Harari è molto popolare anche online. Conduce un corso in inglese intitolato A Brief History of Humankind, frequentato da oltre 130.000 persone in tutto il mondo. Tanti suggerimenti utili per… Capire e affrontare il nostro tempo e il futuro che ci aspetta. Riflettere sul ruolo delle religioni e della laicità etica. Comprendere quali elementi possono creare la prossima narrazione globale. Una nuova narrazione per accompagnarci verso il futuro dell'informatica e della biotecnologia. Gli esseri umani pensano in termini di narrazione, e più essa è semplice, meglio è. Nel ventesimo secolo esistevano tre grandi narrazioni, quella fascista, quella comunista e quella liberale. La prima è stata spazzata via dalla Seconda Guerra Mondiale. Alla fine degli anni Ottanta è crollata quella comunista. La terza, che era rimasta la sola a dominare, è sparita adesso. La gente non crede più che garantire piena libertà a tutti rappresenti la soluzione di ogni male. La narrazione liberale ha creato grandi aspettative che sono state rispettate in passato. Oggi però i giovani possono considerarsi fortunati se riusciranno a mantenere le attuali condizioni di vita. Privi di una narrazione che ci spieghi il futuro, siamo disorientati e portati a pensare in termini apocalittici. A questo si aggiunge una crescente incapacità di stare al passo con la tecnologia, anche nel delicato settore finanziario. Che cosa succederà quando l'intelligenza artificiale renderà impossibile per la maggior parte delle persone capire la finanza? Quali ripercussioni politiche ci saranno quando il bilancio di un paese dovrà essere approvato da un algoritmo? A livello globale, le masse sentono di perdere rilevanza e possiamo veder diminuire la volontà di avere una narrazione globale guardando a Trump che propone il ritorno a un'America isolazionista, all'Inghilterra che sceglie la Brexit, alla Cina che riscopre la tradizione storica originale. È tempo di lavorare ad una narrazione nuova, capace di gestire la duplice rivoluzione, informatica e biotecnologica, che acquisirà slancio nei prossimi decenni e avrà impatto sulla vita di tutti noi. Per farlo, dobbiamo passare dal panico alla perplessità. Dobbiamo ammettere che non sappiamo cosa sta accadendo al mondo. Disegnare nuovi modelli per affrontare il cambiamento del mondo del lavoro. Gli esseri umani hanno due tipi di abilità, fisiche e cognitive. In passato le macchine erano in competizione con gli esseri umani sul piano fisico. Oggi, e sempre di più, lo sono anche in campo cognitivo. Gli scienziati sono in grado di hackerare gli esseri umani e l'intelligenza artificiale è in grado di superare le prestazioni umane in molte aree, anche nei campi tradizionalmente legati all'uso dell'intuizione. In più, mentre gli esseri umani sono individui e agiscono in modo individuale, le macchine possono facilmente essere connesse e integrate in una rete flessibile e potente. Sarebbe una follia essere contraria alla guida automatica. Il 90% degli incidenti che causano 1,25 milioni di morti l'anno nel mondo sono imputabili a errore umano. Guida in stato di ebrezza, distrazione, eccesso di velocità. In altre parole, i veicoli a guida autonoma potrebbero salvare un milione di vite l'anno. L'intelligenza artificiale può cancellare molti posti di lavoro, soprattutto quelli che richiedono attività ripetitive, ma anche crearne di nuovi. Pensate ai droni. L'esercito americano ha sostituito alcuni piloti con droni, ma per gestire un singolo Predator servono 30 tecnici specializzati e sono 8 gli analisti che si occupano di analizzare i dati che produce. Il problema è dato dal livello di preparazione che richiede occupare questi nuovi posti di lavoro. Nel 2050, un cassiere non potrà trasformarsi velocemente in analista. Potremmo assistere alla nascita di un esercito di lavoratori inutili, condizione aggravata dalla mancanza di stabilità. Potrebbero esserci milioni di persone costrette a reinventarsi periodicamente per restare nel mercato del lavoro. È necessario anticipare il problema e tentare di disegnare nuovi modelli per una società post-lavoro. Un'ipotesi che sta guadagnando consenso è quella del reddito minimo universale, abbinato a un ripensamento di quello che definiamo lavoro. Applicando questa definizione ad attività come aiutare i vicini o prendersi cura dei bambini. In Israele, circa la metà degli uomini ebrei ultraortodossi non lavora, ma dedica la vita allo studio delle sacre scritture. Le mogli lavorano, ma è il governo che li assiste con sussidi e servizi. I laici si dicono spesso contrari a questa forma di assistenza, ma l'affermazione dell'intelligenza artificiale potrebbe spingerci a capovolgere il paradigma e riconoscere che questo è il modello corretto da seguire. Gli ultraortodossi sono poveri e disoccupati, ma il loro livello di soddisfazione personale è altissimo. Una stanza affollata di studiosi del Talmud è piena di gioia. Una fabbrica tessile piena di operai sfruttati certamente no. L'avvento dell'intelligenza artificiale ci potrebbe aiutare a cambiare in meglio. L'intelligenza artificiale dovrà creare un ponte fra l'online e l'offline. Dove ci possono portare i big data? La potenza di calcolo che permette di esaminare ogni possibilità prima di prendere una decisione può creare algoritmi capaci di scegliere per noi. Ma se passiamo interamente l'autorità a Google Maps, possiamo finire in acqua, come è successo alla turista giapponese Yuzanoda, che nel 2012, durante una gita in Australia, finì nel Pacifico perché il GPS aveva detto che poteva raggiungere la sua meta, un'isola, in auto. D'altro canto, gli algoritmi possono prendere decisioni etiche, non offuscate da stress, pregiudizi, egoismo. Pensiamo a un colloquio di lavoro fatto da un computer programmato per non tenere in considerazione sesso, razza, religione. In termini di dati e libertà, siamo su un terreno pericoloso. Già oggi, quando un palestinese viaggia, telefona o pubblica su Facebook, viene controllato e le sue tracce vengono raccolte e analizzate. Questo consente a Israele di individuare e neutralizzare potenziali minacce, ma può creare gravi problemi. Nell'ottobre del 2017, un operaio palestinese pubblicò una sua foto accanto a un bulldozer con la parola «Buongiorno», che per un errore dell'algoritmo venne letta come «Uccidi» e l'uomo venne arrestato. Quello che i palestinesi della Cisgiordania stanno vivendo potrebbe essere quello che succederà al mondo tra pochi decenni. La storia del ventesimo secolo è la storia della riduzione della disuguaglianza tra classi, razze e generi. Il ventunesimo secolo non ha seguito questo cammino. Oggi l'1% della popolazione mondiale detiene il 50% delle ricchezze. Le 100 persone più ricche del mondo posseggono più di 4 miliardi dei più poveri messi insieme, e la situazione può peggiorare. L'AI, Artificial Intelligence, intelligenza artificiale, può far crescere la disuguaglianza biologica. I ricchi potrebbero essere in grado di comprare talento, salute, lunghezza della vita e bellezza grazie alle biotecnologie. Nel ventunesimo secolo i dati eclisseranno la terra e le macchine come risorsa strategica. Chi li detiene può violare i segreti più profondi della vita. Oggi siamo felici di dare i nostri dati in cambio di posta gratuita e video simpatici. Ma potrebbe diventare impossibile sfuggire alla rete. Potrebbe essere perfino vietato. Basta pensare alla battaglia tra salute e privacy. Zuckerberg ha annunciato che il progetto di rifondare le comunità umane è la missione di Facebook, e che ha cominciato a lavorare a una AI che può aiutare la gente ad aggregarsi in comunità significative. Per riuscire dovrà essere capace di creare un ponte tra online e offline, perché una vera comunità è fisica. Se sono malato un amico in California può parlare con me, ma soltanto un vicino può portarmi una tazza di brodo. La sfida di una sola civiltà umana, religione, ultranazionalismo e razzismo. La tesi che descrive lo scontro tra civiltà di fatto spinge verso politiche xenofobe e identità locali. Se accetta che non sarà mai possibile integrare le minoranze musulmane, l'Occidente dovrà chiudersi e l'Unione Europea dovrà abbandonare il suo sogno multiculturale. La realtà è che esiste una sola civiltà umana, che va incontro a continui cambiamenti. Essere tedesco oggi significa dover fare i conti con il nazismo ed è l'evoluzione che ha portato la Germania dal nazismo alla democrazia a definire l'identità tedesca oggi. Mille anni fa, nel mondo, c'erano dozzine di modelli politici diversi, dalle città-stato europee ai califati, mentre oggi il mondo è organizzato in 200 stati e il modello di regime politico è uno soltanto. Perfino i talebani hanno cercato il riconoscimento internazionale come governo legittimo dell'Afghanistan. Inni nazionali e bandiere sono in realtà profondamente uguali. Alle Olimpiadi lo spettacolo più significativo non è la gara tra nazioni, ma l'accordo planetario. Un atleta vince, l'inno suona e la bandiera sventola. Dobbiamo essere orgogliosi del fatto che il genere umano sia capace di organizzare un evento come questo. Gli uomini sono per natura portati a essere leali verso piccoli gruppi, dalla famiglia alla squadra di calcio. Gli ideali collettivi nazionali sono stati inventati per rispondere a pericoli troppo grandi per essere gestiti da una singola tribù. Il problema nasce quando si passa da patriottismo a ultranazionalismo. A spingere nella direzione opposta al nazionalismo ci sono due pericoli globali. La minaccia nucleare, impossibile da sventare senza un sistema di cooperazione internazionale, e la catastrofe ecologica. L'Olocene, il periodo geologico che stiamo vivendo, è sostanzialmente stabile dal punto di vista climatico e ha permesso la vita umana così come la conosciamo, con agricoltura, città e società complesse. La variazione del clima potrà causare eventi che non abbiamo mai dovuto fronteggiare prima. Dove si colloca il nazionalismo in questo quadro? La Repubblica di Kiribati, nazione isola nell'oceano Pacifico, potrebbe portare le sue emissioni a zero ed essere lo stesso sommersa dalle acque a causa dello scioglimento dei ghiacci. Purtroppo, se nessuno può ignorare la minaccia tangibile di una bomba atomica, molti possono ancora mettere gli interessi nazionali davanti a quelli globali quando si parla di riscaldamento globale. I laici sono una minoranza. Le religioni tradizionali sono importanti per i problemi legati all'identità, ma non soltanto non hanno risposte per problemi di tipo tecnico o politico. Concorrono al problema, contrariamente a quanto accadeva in tempi premoderni. Le grandi religioni dividono noi da loro. La diversità è considerata con favore soltanto in astratto. Le larghe vedute non reggono alla prova dei fatti. Il colore della pelle conta ancora moltissimo, soprattutto in America. L'Europa, nella sua volontà di abbattere i confini tra stati nazionali, vive gravi problemi di gestione dei migranti. Ci sono europei che vogliono chiudere i confini a dispetto dei valori fondanti dell'Unione. Se l'Europa riuscirà a trovare una soluzione al dibattito, un percorso intermedio potrebbe aver individuato la formula da applicare a livello globale. Se 500 milioni di ricchi europei non possono assimilare pochi milioni di rifugiati, quali possibilità ha il resto del pianeta di vincere questa sfida? L'uomo e le guerre del ventunesimo secolo Nel ventunesimo secolo è di fatto impossibile intraprendere guerre vittoriose a causa del cambiamento subito dall'economia. Oggi i beni immateriali, come le conoscenze tecnologiche, sono i più importanti e non si strappano al nemico con una guerra di conquista. Malgrado questo, non bisogna sottovalutare la stupidità umana ed è fondamentale per la pace una crescita dell'umiltà. La maggior parte delle persone pensa che la sua cultura sia il faro del mondo e giudica irrilevante quella altrui. Presunzione, ignoranza, fanatismo religioso. Spesso gli uomini si servono del loro Dio per dominare con arroganza, malgrado l'umiltà sia considerata una virtù essenziale. L'ordine sociale in passato è stato sorretto dalle religioni, ma se oggi accettiamo l'etica come guida della società, possiamo non visitare i templi e non credere in alcuna divinità, eppure vivere una vita laica moralmente dignitosa. Per i laici, verità e compassione sono valori fondamentali. I movimenti laici non dogmatici tendono a fare promesse modeste, sono consapevoli delle loro imperfezioni e cercano di realizzare cambiamenti incrementali. Le radici dell'uomo, la narrazione e il futuro. La fiducia nella razionalità umana ci ha portati dove siamo, cioè a fronteggiare il problema del pensiero di gruppo, che ha un potere così tenace da essere immune a ogni tipo di contraddittorio, perfino a una dimostrazione pratica dell'errore basata su dati, studi e analisi. Anche il senso di giustizia ha radici ancestrali, e purtroppo non è più adeguato al mondo in cui viviamo. La giustizia richiede la comprensione delle relazioni di causa-effetto, e nessuno di noi è in grado di sapere con precisione da dove viene il suo cibo, chi ha cucito i suoi vestiti, come investe soldi la sua banca. Homo sapiens è una creatura che dipende dalla sua capacità di creare narrazioni e di crederci. Finché crediamo tutti alle stesse storie e rispettiamo le stesse leggi, siamo in grado, unici mammiferi dalla Terra, di cooperare in modo efficace in gruppi numerosissimi. Nella narrazione, la verità non è il fattore prioritario. Pensando alla Coca-Cola, le associate a persone obese, o piuttosto a gruppi di giovani che giocano e si divertono insieme. Verità e potere non viaggiano sempre affiancati. La verità va vestita di narrazioni quando si cerca il potere, e questo è vero per i sacerdoti delle grandi religioni, gli imperatori, i dittatori comunisti. Gli esseri umani controllano il mondo perché sono capaci di cooperazione tra estranei, e sono capaci di cooperare tra estranei perché credono nelle narrazioni. I popoli vanno in guerra e costruiscono cattedrali in nome di Dio, i poeti e artisti sono sempre state importanti artefici di narrazioni. Quando ci si interroga sul senso della vita, si chiede che ci venga raccontata una storia. Cos'è la realtà? Qual è il mio ruolo? Averne uno dà senso alle mie esperienze passate e future. Molte narrazioni sono lineari, come quella musulmana, sionista, comunista. C'è un cammino da percorrere per raggiungere un traguardo di felicità e riscatto. La vita tende a un fine unico. Le narrazioni ci forniscono un senso, e ci crediamo grazie ai rituali, non soltanto quelli religiosi. In campo militare la disciplina e i rituali sono inseparabili. I soldati moderni, come quelli dell'antichità, dedicano ore a pulire le loro calzature. Napoleone diceva che un soldato combatterà senza risparmio per un pezzo di nastro colorato. Considerate come la marsigliese evoca nella mente di tutti la Francia, e come per molti due pezzi di legno incollati in croce sono Dio. Prevedere il futuro di un bambino che nasce adesso è ancora più difficile che in passato. I cambiamenti tecnologici sono imprevedibili. Non abbiamo idea di come sarà il mondo tra vent'anni. Le informazioni di cui siamo in possesso sono tante, troppe, eppure non ci aiutano. Quello che sappiamo e insegniamo oggi potrebbe essere irrilevante. La cosa pressoché certa è che dovremo essere dotati della capacità di accettare i cambiamenti. La resilienza sarà l'arma vincente in un mondo nel quale la stabilità potrebbe essere un lusso per pochi. Citazioni. Il panico è una forma di arroganza. Quando sarete grandi potreste non avere un lavoro. Se la democrazia fosse una questione di decisioni razionali, non ci sarebbe motivo di garantire alla gente il suffragio universale. Chi possiede i dati possiede il futuro. Problemi globali necessitano di soluzioni globali. Sapete meno di quello che credete di sapere. Da sempre gli esseri umani hanno la capacità di creare storie in grado di guidarli, di dare un senso alla loro esistenza. La narrazione globale che si dispiega davanti al futuro prossimo dell'umanità deve essere definita riflettendo su concetti come guerra, libertà, religione, umiltà, ma anche intelligenza artificiale, terrorismo e civiltà. Dare un senso alle esperienze passate e future è più difficile oggi rispetto a pochi decenni fa. L'unica certezza è che le cose sono destinate a cambiare a un ritmo sempre più veloce. La resilienza sarà la qualità più importante da coltivare.